12esima edizione della Notte Rosa, Together il tema di questa edizione è lo stare insieme per celebrare un evento che per dimensioni non è uguali in Italia. Un grande evento, anche se forse chiamarlo evento un po' troppo riduttivo, frutto appunto del lavoro, del gioco di squadra, di istituzioni, operatori privati, 130 km di costa, 16 località. Insomma un piccolo miracolo che per la dodicesima volta riproduciamo appunto sulla riviera adriatica dell'Emilia Romagna attraverso una festa che vuole rappresentare un po' l'esaltazione dei nostri grandi valori, dei nostri asset identitari, la cultura dell'ospitalità, lo stare insieme, le relazioni, in fondo il turismo è apertura, relazioni individuali e interpersonali. Quest'anno abbiamo voluto declinare appunto i nostri valori con questo nuovo claim della festa, Together, lo stare insieme in un momento, in un mondo in cui si alzano muri, in cui domina la paura. Noi vogliamo aprirci al mondo e quindi mandare un messaggio un po' controcorrente rispetto alla vulgata comune e quindi abbracciare idealmente tutti i nostri ospiti, oltre due milioni che saranno presenti in queste due giornate sulla riviera adriatica dell'Emilia Romagna. Together è il simbolo della notte rosa, è il messaggio di rifiutare le paure, rifiutare quei sentimenti che ci fanno vedere gli uni con gli altri, magari nemici e lontani.